Nomi anglosassone, Florence School of Banking and Finance è la scuola che forma i futuri professionisti e bancari in Europa, promossa dall'European University Institute e da Antecassa di Risparmio di Firenze. I presidenti dei due istituti, Joseph Weiler e Umberto Tombari, hanno siglato l'atto costitutivo della nuova realtà. La scuola, parte integrante dell'Istituto Universitario Europeo, si pone l'obiettivo di diventare la piattaforma leader in Europa per quanto concerne la formazione, la ricerca e il dibattito comparato sulla regolamentazione e la gestione del settore bancario e finanziario. Questa articolata attività prevede incontri, analisi, confronti e riflessioni tra gli esponenti del mondo accademico e i professionisti del ramo finanziario e bancario dell'Unione Europea. Ne saranno destinatari funzionari della Commissione, dell'autorità bancaria europea, della Banca Centrale e delle banche nazionali, così come gli studiosi della materia e tutto il settore bancario e finanziario privato. Innanzitutto contribuiamo a creare a Firenze un centro di formazione d'eccellenza su una materia e su un campo assolutamente strategico e centrale. Basta vedere il dibattito di questi giorni. La materia bancaria e finanziaria domina le cronache finanziarie internazionali, domina la nostra vita. Quindi portare qui un centro di formazione internazionale di primissimo livello è un grande motivo di orgoglio.